I dati ISTAT dei primi 8 mesi del 2017 registrano consistenti aumenti di presenze turistiche in tutto il territorio di Imola e Faenza, dove opera la società IF, Imola Faenza Tourism Company. Rispetto allo stesso periodo del 2016, a Imola il valore delle presenze è aumentato del 14,3% con un deciso incremento degli stranieri. Molto bene anche Castel San Pietro Terme e Dozza. Una forte attività sulle fiere nazionali e internazionali e un grandissimo lavoro di organizzazione e di gestione di educational tour. Anche oggi in questi giorni abbiamo 10 tour operator stranieri, Argentina, Sud America e paesi emergenti che visitano il nostro territorio. I miei obiettivi sono quelli di caratterizzarci bene sui 5 driver di sviluppo che abbiamo individuato, quindi siamo all'interno della Motor Valley, della Food Valley, della Wellness Valley. Lavoriamo molto anche sul turismo in plein air, vista anche la vocazione e le caratteristiche del nostro territorio, soprattutto quello collinare. Lavoriamo molto anche su quello che è il filone arte-cultura con Faenza che prenderà a fine anno la presidenza della strada europea della ceramica al posto di Limonges. I dati positivi si registrano anche sul versante faentino. A Brisighella, che aumenta il numero dei pernotamenti del 18,6%, a Riolo Terme e a Casola Valsegno, con addirittura un più 47,3%. Faenza segna un 7,8% in positivo, meglio addirittura del copoluogo Ravenna, che si ferma al più 4,7%.